Sono originario di Napoli, vivevo a San Giorgio a Cremano, un paesino che si trova alle falde del Vesuvio, ho 42 anni e facevo il commercialista e di sera anche le strutture di fitness e sono un anno e mezzo che ho deciso di cambiare completamente vita e sono venuto qui. Attualmente collaboro con alcuni residents e gestisco gli affitti di alcuni appartamenti e oramai sono due mesi e mezzo che con il mio amico Clearco e la mia ragazza Francesca produciamo dei video informativi e commerciali. Bene, l'Asterrenas io la consiglierei sicuramente a tutte le persone che vogliono fare un cambio radicale di vita, una vita molto 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 più semplice e a contatto con la natura e in particolare a coloro che vogliono vivere di più la propria famiglia, i propri affetti e anche i propri interessi. Bene, io la sconsiglio assolutamente a tutti gli italiani che hanno problemi in Italia e che pensano che venendo qui i problemi si risolvano o spariscono completamente. Non è così, assolutamente. In più, lo sconsiglio a tutti coloro che non hanno un buono spirito di adattamento, perché qui la vita, ripeto, è completamente diversa dai canoni europei. Ragazzi, per me in questo momento io ho scelto il posto più bello dell'Asterrenas per fare questa intervista. Basta che guardate dove sono. Guido la guida per sintetizzare è come una finestra aperta sull'Asterrenas, dove chiunque si può affacciare e vedere quello che succede. in più può interagire facendomi domande o scrivendo commenti o dando solamente suggerimenti. In pratica non è altro che una condivisione della mia esperienza con voi. Direi sicuramente naturale, liberale, però anche molto contraddittoria. Ragazzi, io sinceramente, venendo da una città meravigliosa come Napoli, ho visto di tutto e di più e fino adesso, un anno e mezzo che sono qui, ancora mi deve capitare di vedere qualcosa di ancora più meraviglioso di quello che ho visto a Napoli, quindi non saprei rispondere a questa domanda. In tutto, a partire dal modo di vestirmi o direi del non vestirmi, al momento di non modo di rapportarmi con il lavoro, al modo di vivere insieme alla mia ragazza, in tutto, al modo di mangiare, al modo di passare la giornata, in tutto. Non c'è una cosa, due cose, tre cose che mi sono cambiate. Mi è cambiata la vita intera e direi veramente in meglio. Questa domanda è una domanda che è legata al modo di vivere dell'Occidente, non è una domanda alla quale io posso rispondere qui in questo momento, perché qui si vive alla giornata, non ti fai il problema del futuro. Questa domanda la lascio a voi che progettate di venire a vivere qui. Grazie a tutti.